ecco avete visto un ripetito qua davanti non c'è più non c'è più il giro non c'è più perché poi se non penso la sua memoria vabbè ma attenzione so che fa sorridere sta cosa come ho il giro a parte che le parole sono due miliardi tenere tutte a memoria però se non devo cantare le sono tutte va recitandole però cantandole è più complessa e infatti dico un aneddoto per dire in uno dei concerti Fabrizio aveva una sedia stava a bassa con la sua chitarra in omito e tutto concentrato un giorno entro e vedo che lui lì stava raccogliendo tutti i fogli erano caduti naturalmente diceva cose che non ripeto perché è un poeta quindi le diceva con una certa grazia e quindi non sono irripetibili ma era graziato e quindi dico ma Fabrizio che te ne frega cioè voglio dire sei lì che stai raccogliendo i fogli le hai scritte ce le hai tutte qui lui mi guarda adesso dico un attimo ciuffa mi fa beh lì non si sa mai e da lì abbiamo detto il miglior verce non so cosa volete volete questo che arrivo adesso vero? facciamo invece Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.